Intro Ciao amici di Addicted2Games, io sono Michele, oggi siamo su Naruto Shinobi Lifes Online è una sorta di titolo indie dedicato a Naruto, il nome Naruto non c'è nel titolo però è chiaramente un'ispirazione questo gioco ragazzi è una pre 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 alfa, praticamente la prima versione per farvi un'idea è basato sui combattimenti in stile ninja, al momento il gioco è poverissimo di contenuti, la grafica è molto spoglia non c'è quasi niente, c'è solo un abbozzo di idea, quindi ragazzi proviamolo insieme, vediamo com'è in questo gameplay ci sarà un mio amico, Mauro, ve lo presento subito eccoci qua insieme a Mauro mi vedi sto saltando ciao Mauro allora proviamo questo fantastico gioco ma che... ma fa schifo, vabbè comunque dai sì dai, proviamo un combattimento vediamo sì però non ti... bravo, non ti... non ti nascondono, vieni qua allora ci sono due attacchi in sto gioco non si può nemmeno picchiare normalmente vieni qua ma... 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 ma ci possiamo colpire? sì, c'è la vita in alto a sinistra la vita è il mana... il... ma non mi hai fatto niente colpisci come vai a correre così? io non... allora qual è quell'attacco? 5874 vado... si è complicato attaccare il suo gioco oh, ti ho ucciso fantastico e come faccio ora? e devi rinascere ammettilo, è fantastico sono morto per sempre non lo so ah, posso anche saltare? attenzione è inutile che scrivi Michele Puzza, tanto dai, vieni qua, dai ok, sto rientrando ok bello, bella l'animazione vai, attacca ecco a te ma non mi fai danno ti hai impremuto? ah, ecco che mi fai danno possiamo anche evadere guarda ma... ma ti sto colpendo almeno oddio quanto è complicato correre ma... di qua come fai a correre? io pure voglio correre non riesco ad attaccare non ho mana, chakra, cos'è? devi fare 398 colpiscimi dove stai volando? vai, 398 eh, non colpisce eh, non colpisce oddio un gioco fantastico bene, dai questa era la prova di... questo gioco? com'è che si chiamava? shinobi life online cosa ne pensi Mauro? cosa ne pensi? è un gioco bellissimo vabbè, dai è una pre-alfa dai, prova a correre vediamo, ce la fai come faccio a correre? allora, shift e porti in avanti il mouse che cavolo ha che cavolo ha poi guarda come corre va bene dai questo è tutto ragazzi ciao Mauro ciao ciao ragazzi lasciate un bel like un commento o condividete il video bene ragazzi passate anche su facebook alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.